Colpi di scena e sorprese hanno caratterizzato il primo turno di amministrative a nord-est. Il centrodestra e la Lega incassano soddisfatti risultati e conferme, come ad Albignasego, dove Filippo Giacinti, vice sindaco uscente per il centrodestra, viene riconfermato al primo turno, così come il leghista Luca Piero Buona, cittadella. Trionfo leghista nel Trevigiano, a Montebelluna e Villorba. Marzio Favero, sindaco uscente, sostenuto da Lega Nord e Forza Italia, vince con la civica Montebelluna Futura e Marco Serena incassa il 52,70% dei voti. Sempre nel Trevigiano ballottaggio, tra la leghista Maria Scardellato, che doppia nei voti la supercivica di Laura Adamo a Oderzo. Luigi Bisato è il nuovo sindaco di Noventa Padovana. Loredana Borghesan viene riconfermata a Montagnana. Scontro classico centrodestra e centrosinistra ad Adria, dove il sindaco uscente Massimo Barbugliani si confronterà con Nicola Zambone, un'espressione del centrosinistra. Nel Veronese, ballottaggio a San Giovanni Lupatotto, tra il candidato di Lega e centrodestra, Attilio Gastaldello, in largo vantaggio, e l'ex sindaco Remo Taglioli, sostenuto da quattro liste civiche. Si torna alle urne anche a Bovolone, dove Milietto Mirando la sfida è il candidato della Lega Nord, Alessandro Minozzi, e tra gli outsider. Il caso Abano e Montegrotto è esemplare, con Luca Claudio, che se la vedrà al ballottaggio con Monica Lazzaretto, sostenuta dal centrosinistra, e la sorprendente vittoria al primo turno a Montegrotto di Riccardo Mortandello, sostenuto dalla civica Nuova Montegrotto. Un capitolo a sé stante è quello del ballottaggio, con un candidato del Movimento 5 Stelle a Chioggia, dove il sindaco uscente, Giuseppe Casson, arriva al ballottaggio con il sostegno di Tre Civiche e Lega Nord, dopo essere stato eletto la volta precedente dal centrosinistra. Tra 15 giorni se la vedrà con l'architetto del Movimento 5 Stelle, Alessandro Ferro. Insomma, un voto a macchia di Leopardo che ha premiato le persone più che i partiti un po' ovunque.